Ormai è guerra aperta tra il premier Matteo Renzi e il popolo della scuola che tra flash mob, scioperi e blocco degli scrutini ha manifestato il totale dissenso verso un disegno di legge che se approvato provocherà una vera e propria guerriglia vietnamita nelle scuole. Sono pronti a giurarlo i sindacati Cobas. Renzi in guerra totale con il popolo della scuola impone al senato o votate la fiducia sul DDL o il governo va a casa. L'indignazione della scuola è al massimo. Dopo i passati annunci di rinvio che sembravano un ritorno alla ragione ora Renzi si gioca alle sorti della legislatura forse conoscendo bene la tempra dell'opposizione interna sull'ignobile DDL del quale gli emendamenti hanno addirittura peggiorato la sostanza. In tutto ciò quel che continua a sorprenderci dichiara Piero Bernocchi portavoce nazionale Cobas è l'incredibile sottovalutazione dell'intreccio fra la grandiosa mobilitazione del popolo della scuola pubblica e i clamorosi e ripetuti tracogli elettorali del PD. Due eventi che anche il più sprovveduto degli italiani non può non avere collegato. La definitiva affermazione della scuola azienda privatizzata e mercificata viene imposta a Renzi dai potentati politici ed economici dell'Unione Europea. I stessi italiani che si sono astenuti al 50 per cento nelle ultime elezioni ma che hanno pure punito drasticamente il PD togliendogli un paio di milioni di voti. E di questa sottrazione il popolo della scuola è stato artefice principale come già successe nel 2000 quando il fallimento del concorsaccio berlingueriano costò la sconfitta del governo D'Alema alle elezioni regionali. La scuola pubblica trae spesso in inganno il potere politico per anni inghiotte tutto ma quando si ribella lo fa con ondate improvvise potenti e travolgenti che vincenti o meno lasciano segni duratori. Imporre con la fiducia una legge odiosa e un'animamente rifiutata spiega Bernocchi non significa solo l'ostilità attuale del popolo della scuola ma la sua inimicizia duratura. Anche se il disegno di legge otterrà i voti in Parlamento nessuno dei protagonisti della lotta dimenticherà la guerra che il governo ha dichiarato loro perché ad esempio per i docenti è intollerabile perdere la libertà di insegnamento, essere assunti e licenziati da un preside padrone, essere premiati o puniti da un gran giurì composto dallo stesso padrone. Si romperà ogni collegialità, lo scontro interno diverrà la norma quotidiana. In ogni caso di certo l'indignazione della scuola è al massimo e la lotta, annuncia il portavoce Cobas, proseguirà potente fino all'ultimo secondo. Anche il 24-25 le scuole, le RSU, i Cobas e gli altri sindacati saranno in piazza in tutta Italia.